Capitolo quinto La mattina dopo, Denise era scesa nel reparto da circa mezz'ora, quando Madame Aurélie le disse con la sua voce secca, «Signorina, vi vogliono alla direzione!». La ragazza trovò Mouré solo, seduto nel suo studio tappezzato di verde. S'era ricordato a un tratto della sciattona, come la chiamava Bourdoncle, e ripugnandoli anche questa volta di far la parte del tiranno, aveva pensato di chiamarla per smuoverla un po' se era sempre combinata come una provinciale. Il giorno avanti, per quanto avesse scherzato anche lui, di fronte alla desforge, aveva sentito un po' di dispetto d'amor proprio, sentendo porre in dubbio l'eleganza ad una delle sue ragazze. Lì si agitava nell'animo un sentimento confuso, misto di simpatia e di stizza. «Signorina», cominciò a dire, «vi abbiamo presa per riguardo a vostro zio e non bisogna che voi ci mettiate nella triste necessità…» Ma si fermò subito. In faccia a lui, dall'altra parte del tavolino, Denise stava dritta, seria e pallida. Il vestito di seta non le era più troppo largo. Stava invece a pennello intorno alle curve della vita e mostrava nella loro purezza le sue spalle di vergine. I capelli annodati in grosse trecce erano sempre un po' ribelli, ma almeno cercavano di contenersi. Dopo essersi addormentata vestita, con gli occhi stanchi dal pianto, la giovanetta, svegliatasi verso le quattro, si era vergognata della sua commozione, si era messa subito a restringere il suo vestito e aveva passato un'ora a pettinarsi senza riuscire a ridurre i capelli come avrebbe voluto. «Sì, ha ringraziato Dio», mormorò More. «Stamani state un po' meglio, ma quei benedetti capelli, ancora…» si era alzato e andò a correggere la pettinatura di Denise con quel gesto stesso col quale madame Aurelì ci si era provata il giorno prima. «Ecco qui! Tirateli un po' dietro le orecchie. Lo scignone è troppo alto. Lei non apriva bocca e lasciava fare. Per quanto si fosse proposta di essere forte, era giunta nello studio col freddo nelle vene, quasi certa che la chiamavano per licenziarla. E l'evidente benevolenza di More non la tranquillizzava, anzi continuava ad aver paura di lui e a sentire accanto a lui quel malessere che reputava turbamento naturale innanzi all'uomo tanto potente dal quale ormai dipendeva la sua vita. Quando la vide così tremante sotto le sue maniche le sfioravano il capo, rimpianse quel primo moto di cortesia, perché gli stava a cuore, prima d'ogni altra cosa, non perdere la propria autorità. «Insomma, signorina», riprese andando a sedersi di nuovo al tavolino, «cercate di stare sempre attenta al vestito. Non siete più a valogne. Studiate le nostre parigine. Se il nome dello zio è bastato per farvi accogliere, io son certo che voi manterrete quello che il vostro aspetto mi parve promettere. La disgrazia è che non tutti qui sono del mio parere. Siete avvisata, non è vero? Non mi fate dunque bugiardo». La trattava da bambina con più compassione che bontà. Sentiva, per così dire, in quella ragazza povera e inesperta, crescere la donna che può far girare la testa. E la sua curiosità di uomo galante si svegliava. Ma lei, mentre Morele parlava, essendole caduti gli occhi sul ritratto della Edouane, il cui bel volto regolare sorrideva gravemente dalla cornice dorata, si sentì ripresa da un divido, per quanto le parole di lui fossero benevole. Era quella la signora morta, che il quartiere lo accusava di aver uccisa per fondare la casa sul sangue delle sue vene. More seguitava a parlare. «Andate!» disse finalmente, mettendosi a scrivere e riprendendo la penna. Se ne andò, e nel corridoio dette un sospirone, come se le levassero un gran peso di dosso. Da quel giorno, Denise mostrò che gran cuore avesse. Sotto i rari sfoghi del sentimento, bere in lei la ragione sempre sveglia e presente. Bere il coraggio di una creatura debole e sola, che gaiamente si ostina nel dovere imposto a se stessa. Faceva poco rumore, ma andava dritta fino al suo scopo, con una invincibile dolcezza, sorpassando tutti gli ostacoli, e faceva ciò con semplicità, naturalmente, perché quella era la sua indole. Il suo viso di bambina quieta passava e trionfava in mezzo alle ire. Le sue gracili mani acquistavano a poco a poco la forza dell'acciaio. Da principio dovette superare le terribili fatiche del reparto. I mucchi dei vestiti le spezzavano le braccia, al punto che per il primo mese e mezzo la notte gemeva contorcendosi, piegate in due con le spalle indolenzite. Ma soffrì anche di più per le scarpe. Certi scarponi portati da valogni e che non poteva, non avendo i quattrini, cambiare con un paio di stivaletti leggeri. Sempre dritta, camminando dalla mattina alla sera, sgridata se la vedevano appoggiarsi un momento, aveva i piedi gonfi, i suoi piedini da bimba che parevano stritolati dentro a macchine di tortura. I calcagni le ardevano di febbre. La pianta si era coperta di vesciche, delle quali la pelle strappata restava attaccata alle calze. Il corpo intero era tutto un dolore per quella stanchezza delle gambe e per i bruschi disturbi del sesso femminile che palesavano il pallore delle carni, e così delicata, così sfinita, pure resistette, mentre molte ragazze intorno a lei dovevano andarsene per malattie cagionate da quella vita. Il suo coraggio nel soffrire, l'ostinazione a volerla spuntare, la tenevano su e la facevano ancora sorridere quando stava per svenire, spossata da un lavoro al quale non tutti gli uomini avrebbero potuto reggere. La tormentava, inoltre, la persecuzione delle compagne che si aggiungeva al martirio del corpo. Dopo due mesi di pazienza e di dolcezza non le aveva ancora disarmate. Erano ogni giorno parole mordaci, crudeli invenzioni, un abbandono che, bisognosa com'era d'affetto, la feriva nel cuore. Durarono un pezzo a canzonarla per la sua prima vendita. La chiamavano Rapa e Ciabattona. Quando una non riusciva a contentare una cliente, la mandavano a Valogne. Passava, insomma, per la bestia del reparto. Poi, quando si mostrò bravissima a vendere, una volta entrata nei segreti del mestiere, ebbero tutte quasi uno stupore pieno di sdegno e si intesero tra loro in modo da non lasciarle mai una cliente a modo. Marguerite e Claire la perseguitavano con un odio istintivo stringendo le fila per non essere messe sotto da quella nuova venuta che, nonostante i loro sdegni ostentati, temevano. Madame Aurelì, poi, non perdonava alla giovanetta di starsene così dimessa, di non pavoneggiarsi, di non guardarsi ogni momento come le altre di dietro e davanti, e l'abbandonava ai rancori delle proprie favorite. L'abbandonava a quelli della propria corte, che era sempre inginocchiata davanti a lei, intenta a imbottirla di una continua adulazione, di cui l'indole sua tirannica aveva bisogno per vivere bene. Per un po', parve che la vice direttrice, la Frédéric, non entrasse nella congiura, ma doveva essere per sbadataggine, perché si mostrò non meno dura delle altre, non appena si accorse in quali seccature le sue buone maniere potevano metterla. Allora l'abbandono fu universale. Tutte dettero addosso alla sciattona, e Denise dovette lottare duramente, in un combattimento che si rinnovava d'ora in ora, non riuscendo con tutto il suo coraggio che a farsi a malapena tollerare nel reparto. Tale era la sua vita. Bisognava che sorridesse, facesse la brava e la graziosa in un vestito di seta che non era suo, e moriva di fatica, malnutrita, maltrattata, sotto la continua minaccia ad essere licenziata. La sua stanzetta era l'unico suo rifugio, il solo posto dove qualche volta lasciasse libero sfogo alle lacrime, quando nella giornata aveva sofferto troppo. Ma dallo zinco del tetto, coperto dalla neve di dicembre, entrava un freddo terribile, e doveva rannicchiarsi nel lettuccio di ferro, buttarvi sopra tutti i suoi vestiti, piangere sotto le coperte, perché il gelo non le screpolasse il viso. Moret non le rivolgeva più una parola. Quando lo sguardo severo di Bourdoncle cadeva su di lei, era presa da un tremito perché indovinava in lui un nemico che non le avrebbe perdonato la più piccola colpa. E, in mezzo a quelle inimicizie di tutti, la strana benevolenza dell'ispettore Jouvet la meravigliava. Se la trovava sola, le sorrideva e cercava una parolina cortese. Due volte le aveva risparmiato delle partacce. Né lei gliene aveva mostrato gratitudine alcuna, più turbata che commossa per quella sua protezione. Una sera, dopo cena, mentre le ragazze mettevano in ordine tutti gli armadi, Joseph venne ad avvertire Denise che un giovanetto l'aspettava al pian terreno. Ella scese inquietissima. «Toh!» disse Claire. «La sciattona ha un amante, dunque!» «Quando uno ha fame», rispose Marguerite. Sulla porta, Denise trovò suo fratello Jean. Gli aveva proibito espressamente di presentarsi così al magazzino, perché era questa una delle cose che più davano nell'occhio e più dispiacevano i superiori. Ma non osò sgridarlo, tanto pareva fuori di sé, senza cappello, ansante per essere venuto di corsa da soborgo del tempio. «C'è… ce li hai dieci franchi?» balbettò. «Dammi dieci franchi o sono un uomo rovinato!» Quel ragazzo, coi capelli biondi al vento, era tanto buffo col suo bel volto di fanciulla, mentre buttava là quella frase da melodramma, che Denise avrebbe sorriso se quella domanda non l'avesse gettata in un'angoscia indicibile. «Come dieci franchi?» «Che è stato?» Jean si fece rosso e cominciò a dire che aveva trovato la sorella ad un suo compagno, ma Denise lo fece subito calmare, impacciata più di lui e non avendo davvero bisogno di saperne di più. Già due altre volte era venuto di corsa a pregarla per simili prestiti, ma la prima volta si trattava soltanto di un franco e venticinque e la seconda volta di un franco e mezzo. Era inutile. Ricascava sempre negli stessi imbrogli. «Ma io dieci franchi non te li posso dare», riprese Denise. «Ho ancora da pagare il mensile di Pepe e ho i soldi contati. Mi rimarrà appena tanto da comprarmi gli stivaletti e non ne posso fare a meno». «Tu non ci pensi mica a queste cose, Jean, e fai male, malissimo!» «Allora sono un uomo rovinato», ripete Jean con gesto tragico. «Sta a sentire, bella mia. È un pezzo di ragazza bruna. Siamo andati al caffè col fratello. Io credevo che pagassero loro». Dovette interromperlo un'altra volta, ma negli occhi già spuntavano le lacrime e le toccò tirare fuori il portamonete e cavarne una moneta da dieci franchi che gli fece scivolare in mano. Allora Jean si mise a ridere. «Lo sapevo io, ma io ti do la mia parola d'onore che questa è l'ultima volta. Bisognerebbe essere troppo birbante». E se ne andò di corsa, dopo averle dato due baci sulle gote come un pazzo. Dal negozio alcuni commessi guardavano meravigliati. Quella notte Denise non chiuse occhio. Fin da quando era entrata nel paradiso delle signore, il denaro era stato il suo pensiero crudele d'ogni momento. Era sempre alla pari, vale a dire senza stipendio fisso. E siccome le compagne le impedivano di vendere, le riusciva a gran stento di pagare la pensione di Pepe, servendo quelle clienti da poco che si degnavano lasciarle. La sua era la miseria nera, la miseria vestita di seta. Spesso doveva passare la notte intera a raccomodare la sua povera roba, a rammendare la biancheria, a ripigliare i fili delle sue camice come se fossero trine, senza contare che si era rattoppata da sé le scarpe in modo che un calzolaio non se ne sarebbe vergognato. Faceva nella catinella i suoi piccoli bucati. Ma il vecchio vestitino di lana le dava più di ogni altra cosa da fare. Non aveva che quello e doveva rimetterselo ogni sera quando si levava l'uniforme. Così lo consumava a vista d'occhio. Una macchia le faceva terrore. Il più piccolo strappo diventava una rovina. E mai un soldo per lei. Mai un soldo per comprare quei piccoli oggetti di cui han bisogno le donne. Per ricomprarsi filo ed aghi aveva dovuto aspettare 15 giorni. Quando Jean con le sue avventure amorose le piombava addosso e le portava via quel che lei aveva messo da parte era addirittura una disgrazia. Un franco dato a lui scavava un vuoto che non sapeva più come colmare. A trovare 10 franchi il giorno dopo non c'era nemmeno da pensarci. Tutta la notte non fece che rivoltarsi nel letto, fantasticando. Vedeva Pepe buttato sulla strada e le pareva di scassinare con le sue dita livide le pietre dell'astrico per vedere se mai ci trovasse sotto dei soldi. Il giorno dopo dovette invece sorridere e far la sua parte di ragazza ben vestita. Vennero nel reparto delle clienti conosciute e Madame Aurelie la chiamò più volte per gettarle sulle spalle i mantelli perché ne facesse risaltare la foggia nuova ed elegante. E mentre doveva star ben dritta con le grazie imposte dal figurino della moda, pensava ai 40 franchi della pensione di Pepe che aveva promesso di pagare in serata. Per un altro mese avrebbe fatto a meno degli stivaletti, ma anche aggiungendo ai 30 franchi che le erano rimasti quei 4 messi da parte uno per uno, dove avrebbe mai trovato gli altri 6 di cui aveva bisogno. In quell'angoscia il cuore le veniva meno. «Guardino», diceva Madame Aurelie, «le spalle sono libere, è elegantissimo e comodissimo, la signorina può perfino incrociare le braccia». «Sicuro», ripeteva Denise, che aveva sulle labbra il sorriso d'obbligo. «Non si sente nemmeno addosso, se lei signora lo prende ci si troverà bene». E intanto si rimproverava ad essere andata la domenica prima a prendere Pepe da Madame Gras per portarlo alla passeggiata degli Champs-Élysées. Quel povero ragazzo usciva tanto di rado con lei, ma gli aveva dovuto comprare un panforte e una paletta e poi portarlo a vedere i burattini, e così aveva speso un franco e 45. Jeanne al piccino non ci pensava dunque per nulla quando ne faceva delle sue. E tutto ricascava sulle spalle di lei. «Se non piace alla signora», riprendeva a dire la direttrice, «su, signorina, mettetevi la mantellina perché la signora possa vedere da sé». E Denise camminava un po' su e giù con la mantellina sulle spalle dicendo «è calda, calda, quest'anno sono di moda». Fino a sera, sempre fingendo come il mestiere imponeva, continuò a tormentarsi per sapere dove avrebbe trovato mai il denaro del quale aveva bisogno. Le ragazze, Dio sa come e perché, le lasciarono fare una vendita importante. Ma quel giorno era un martedì e fino al sabato non si riscuoteva la percentuale. Dopo mangiato, pensò di non andare per quella sera da Madame Gras. Il giorno dopo si sarebbe scusata col dire che l'avevano trattenuta. Forse quei sei franchi le sarebbero piovuti in un modo o nell'altro. Per evitare anche le più piccole spese, Denise la sera andava a letto prestissimo. Che mai poteva fare per le strade senza nemmeno un soldo in tasca, non conoscendo nessuno e turbata sempre dalla grandezza della città di cui non conosceva che le strade vicine al magazzino. S'arrischiava fino al palero a Yal, tanto per prendere una boccata d'aria, e poi, l'esta resta, tornava a casa, si chiudeva in camera, e stava lì a cucire o a lavare. Non aveva nemmeno un'amica. Di tutte quelle ragazze, solo una, Pauline Cugnot, dimostrava di volerle un po' bene. Ma i reparti della biancheria e dell'abbigliamento, che erano vicini, si facevano apertamente la guerra, e la simpatia delle due ragazze si era dovuta contentare di poche parole di sfuggita. Pauline stava, è vero, in una delle camere accanto a quella di Denise, a sinistra, ma subito dopo mangiato se ne andava e non tornava che alle undici. Denise la sentiva andare a letto, senza incontrarla mai, fuori che nelle ore di lavoro. Quella notte, Denise si era rassegnata a fare un'altra volta da calzolaio. Aveva in mano le scarpe e le guardava e riguardava per vedere se le riusciva di portarle per un altro mese. Finalmente aveva deciso di ricucire con un ago grosso la suola che stava per staccarsi dalla tomaia. Un colletto e un paio di polsini stavano in quel momento immersi nella catinella piena di saponata. Le undici erano suonate da dieci minuti, quando un rumore di passi le fece alzar la testa. Un'altra ragazza che tornava tardi e riconobbe Pauline sentendola aprire la porta accanto. Ma non seppe che pensare. Pauline tornava indietro pian pianino e picchiava alla sua porta. Svelta, sono io! Era proibito alle ragazze andare nelle camere l'una dell'altra. Per questo Denise aprì subito, perché la sua vicina non fosse sorpresa dalla cabine, che vegliava a far sì che il regolamento fosse rigorosamente rispettato. «Che c'era?» domandò nel richiudere. «Chi?» «La cabine», disse Pauline. «Oh, di lei non ho proprio paura. Con cinque franchi!» E aggiunse «Ho visto il lume ed è tanto che volevo discorrere con voi. Laggiù non si può mai e stasera a tavola eravate tanto seria». Denise la ringraziò e la pregò di mettersi a sedere. Quell'aria buona le faceva bene, ma nel turbamento nel quale quella visita inaspettata la gettava, non aveva messo da parte la scarpa che stava per ricucire, e gli occhi di Pauline caddero appunto su quella scarpa. Crollò la testa, guardò intorno e vide anche i polsini il colletto nella catinella. «Povera figlia! Me l'immaginavo io!» «Eh, lo so, purtroppo per esperienza. Nei primi tempi, quando ero arrivata da poco da Chartres e papà non mi mandava un soldo, ne ho lavata anch'io di camice. Già, proprio le camice, perfino le camice! Ne avevo due, e come si dice, una addosso e l'altra al fosso». Si era messa a sedere, ancora ansante per la corsa. Il suo faccione, con certi occhietti vivaci e buoni, con la bocca grande ma non da maligna, non era sgradevole per quanto fosse grosso e grasso. E lì per lì si mise a raccontare la sua storia. Come aveva passato la sua gioventù al mulino. Come il padre fosse stato rovinato da un processo e l'avesse mandata a Parigi a fare fortuna con 20 franchi in tasca. E poi come avesse cominciato il mestiere prima in un negozio in rue de Batignolle, poi al paradiso delle signore. Brutto inizio, con tutte le ferite e tutte le privazioni immaginabili. Per ultimo raccontò la sua vita d'ora. Come guadagnava 200 franchi al mese. Come si divertiva e non si dava pensiero di nulla. Sul suo vestito di bel panno azzurro luccicavano dei gioielli, uno spillone, una catena da orologio, e sorrideva sotto la sua toc di velluto con una grande penna grigia. Denise s'era fatta rossa rossa con quella scarpa in mano e cercava, balbettando, le parole per spiegare la faccenda. «Ma se m'è toccato anche a me», ripete Pauline. «Via, via, ho più anni di voi! Ne ho 26 e mezzo, per quanto non mi si diano. Raccontatemi un po' di voi». Allora Denise c'è detta a quell'amicizia che così apertamente le si offriva. Si mise a sedere in sottana, con un vecchio scialle annodato alle spalle, accanto a Pauline tutte in ghingheri, e cominciarono subito le chiacchiere. Non c'era un gran caldo in quella stanza. Il freddo pareva che venisse giù dai muri della soffitta, nudi come quelli di una prigione, ma tanto erano assorte nelle loro confidenze, non sentivano nemmeno che le mani si intrizzivano dal gelo. A poco a poco Denise disse tutto. Parlò di Jeanne e di Pepe. Raccontò come era tormentata dal pensiero continuo del denaro. E così il discorso cadde sulle ragazze dei vestiti belle e fatti. Pauline cominciò a sfogarsi. «Che canaglie! Capisco, capisco come fanno! Se fossero buone compagne potreste guadagnarvi più di cento franchi!» «Ce l'hanno tutti con me. Non riesco a capire perché!» disse Denise, non potendone più e sentendosi venire i luciconi. Bourdoncle è lì sempre a spiarmi per vedere se li riesce di mandarmi via. Come se gli dessi noia. «Juvet soltanto!» L'altra interruppe. «Scimmiotto d'un ispettore! Ah, piccina mia, non vi fidate! Gli uomini con un nasone a quel modo! Lui mette in mostra la decorazione, ma corre una certa storiella ad un fatto che gli sarebbe accaduto nel reparto della biancheria. Ma come si fa a pigliarsela così? Che disgrazia essere sensibile in questo modo! Dio santo, quel che avviene a voi avviene a tutte! Vi fanno pagare il noviziato!» Le prese le mani e le dette un bacio, spinta dal buon cuore. Quel che più importava era l'affare del denaro. Una povera ragazzina non poteva mantenere i suoi due fratelli, pagare la pensione del piccino e fare i regali alle sgualdrine di quello grande, a forza di raccattare i soldi che le altre lasciavano cascare per misericordia, perché purtroppo, fino a marzo, fino cioè a ricominciare delle vendite importanti, non le avrebbero dato paga fissa. Sentite, è impossibile che la duriate così. Io, se fossi in voi... Ma un rumore che venne dal corridoio le fece zittire. Seguitava a stringere le mani dell'amica e la guardò per un po' zitta zitta, con l'occhio teso. Poi riprese a voce bassa, con aspetto pieno di persuasiva cordialità. «Io, se fossi in voi, piglierei qualcuno». «Come qualcuno?» mormorò Denise, che lì per lì non intese. Quando ebbe capito, trasse indietro le mani e rimase senza sapere che dire. Quel consiglio le dava noia come un'idea che non le era mai venuta e di cui non vedeva la necessità. «Oh no», rispose semplicemente. «E allora», continuò Pauline, «vol dire che non ne caverete mai le gambe, ve lo dico io. I numeri, eccoli qui. Quaranta franchi per il piccino. Cinque franchi di tanto in tanto a quello grande. E poi voi non potete mica andare sempre vestita come una stracciona, con queste scarpe che vi fanno canzonare dalle ragazze. Già, sono proprio le scarpe che vi fanno canzonare. Pigliate qualcuno, sarete meglio, molto meglio, ve lo dico io». «No», ripete Denise. «Avete torto. Prima di tutto non si può fare altrimenti, amor mio. E poi che c'è di male? Si è fatto tutte così. Io, per esempio, ero alla pari come voi. Nemmeno un centesimo. Vi danno, è vero, da mangiare e da dormire, ma un po' di toilette ci vuole. E poi non si può mica stare senza un soldo, chiusa in camera a guardare le mosche che volano. E allora come si fa? Bisogna lasciarsi andare». E parlò del suo primo amante, un giovane di studio che aveva conosciuto in una scampagnata a Medon. Dopo di lui, si era messa con un impiegato delle poste. Dall'autunno in ultimo, se la intendeva con un commesso d'un gran magazzino col quale passava tutte le ore di libertà. Ma non mai più d'uno alla volta, eh? Era onesta lei e si scandalizzava quando sentiva parlare di quelle ragazze che si danno al primo venuto. «Io non vi dico mica di comportarvi male», riprese con vivacità. «E non vorrei, per esempio, farmi vedere per le strade con la vostra madame Claire, per paura che si creda che anch'io corro la cavallina come lei. Ma quando si sta per benino con uno solo e non si ha niente da rimproverarsi, vi pare che vada bene?» «No», rispose Denise. «Ma a me non piace». Ci fu un'altra pausa. Tutte e due nella stanzetta gerida si sorridevano, commosse da quella conversazione a bassa voce. «E poi bisognerebbe prima voler bene a qualcuno», riprese Denise, con le guance rosse rosse. Pauline non pote più contenersi. Ruppe in una risata e l'abbracciò di nuovo, dicendo «Ma, cara mia, una volta che ci si trova e ci si piace, siete strana, sapete. Nessuno vi costringerà, via. Volete che Domenica Bosé ci porti a fare una scampagnata? Condurrà con sé un amico?» «No, no», rispose Denise con la sua dolce cocciutaggine. Allora Pauline non insistette più. Ognuna era padrona di fare a modo suo. Se lei aveva detto qualcosa era stato per bontà di cuore, perché a lei dispiaceva vedere una compagna in quello stato. E siccome stava per suonare mezzanotte, si alzò per andarsene. Ma prima costrinse Denise a prendere i sei franchi che le mancavano, supplicandola di non darsene pensiero. Glieli avrebbe resi quando avesse guadagnato di più. «Ed ora», aggiunse, «spegnete il lume. Così non si accorgono che porta è quella che s'apre. Lo riaccenderete dopo». Spento il lume, si strinsero la mano. E Pauline se ne andò pian piano e rientrò in camera sua, senza lasciare altra traccia che il vago rumore dei suoi passi che si perdevano nelle tenebre profonde. Prima di entrare a letto, Denise volle finire di rattoppare la scarpa e lavare la sua roba. Il freddo si faceva più intenso, a mano a mano, che la notte si inoltrava. Ma lei non lo sentiva più. Tanto quella conversazione le faceva correre più veloce il sangue. Non se l'era presa male per le parole della compagna. Ciascuno, quando era sole e libero sulla terra, le pareva padrone di vivere a modo suo. Ma lei non ci aveva mai pensato su. La sua ragione dritta e salda e la sua indole sana la mantenevano naturalmente nell'onestà in cui viveva. Verso l'una andò finalmente a letto. No, no, lei non voleva bene a nessuno. E allora perché doveva buttare all'aria tutta la sua vita e sciupare il bene da mamma che voleva i suoi due fratelli? Ma addormentarsi non le riusciva. Dei brividi le salivano al capo. L'insonnia faceva passare davanti alle sue palpebre chiuse delle forme indistinte che si dileguavano nella notte. Da quel momento Denise fu curiosamente attratta ad ascoltare, ad osservare le storie d'amore del suo reparto. Là, tranne nelle ore di grande affare, si viveva nel continuo pensiero dell'uomo. Chiacchiere, racconti tenevano allegre le ragazze per una settimana. Claire era uno scandalo. Aveva tre che la mantenevano, a quel che si diceva, senza contare tutti gli amanti occasionali che si trascinava dietro. E se non se ne andava dal magazzino dove lavorava il meno possibile, disprezzando il denaro che si procacciava con tanto più piacere fuori, era per coprirsi agli occhi della sua famiglia. Perché aveva grande continua paura del padre, che minacciava di piombarle addosso e spezzare le braccia e gambe azzoccolate. Marguerite invece si comportava benissimo. Non si sapeva se avesse amanti. E ciò destava meraviglia nelle altre, che si ripetevano l'aneddoto di quel parto che lei era venuta a nascondere a Parigi. Ma come aveva fatto a far quel figlio, se era tanto rigida di costumi? E alcune andavano dicendo che era stato un caso, e che ora lei si serbava per il suo cugino di Grenoble. Ne era risparmiata dalle ragazze la Frederic, alla quale affibiavano amicizie con altri personaggi. La verità era che di quel che lei facesse non ne sapevano nulla. La sera se ne andava tutta ad un pezzo nella sua alterezza vedovile, e tutta indaffarata, senza che nessuno potesse dire dove correva così svelta. Quanto alle passioni di Madame Aurelie, alla pretesa fama improvvisa di giovanotti obbedienti, si sbagliavano di certo. Si divertivano ad inventarle da ragazze scontente della vendita, tanto per ridere un po'. Forse una volta aveva dimostrato un po' troppo affetto materno a un amico del figlio, ma oggi aveva nel commercio lo stato e la nomea di donna seria. Non ci si divertiva più con quelle ragazzate. Poi veniva la mantria, l'irruzione della sera. Quelle nove ogni dieci che erano aspettate dagli amanti all'uscita. In Prasgayon, lungo la rue de la Michaudière e di rue Neuf-Saint-Agustin, una fila di uomini stavano lì, fermi, quasi come sentinelle, guardando con la coda dell'occhio, e quando le ragazze uscivano, ciascuno porgeva il braccio, pigliava la sua, e se ne andavano chiacchierando tranquillamente come marito e molle. Ma più che dal resto, Denise fu turbata quando capì il segreto di Colombin. Era lì, sempre a tutte le ore sulla soglia del vecchio Elbeuf, dall'altra parte della strada, con gli occhi alzati e senza mai levarli dadosso alle ragazze dell'abbigliamento. Quando si accorgeva di essere guardato da lei, arrossiva e voltava la testa dall'altra parte, come se avesse avuto paura che la ragazza dicesse tutto alla cugina Genevieve, per quanto i Bédu e la nipote non si vedessero più da quando era entrata al paradiso delle signore. Da principio l'aveva creduto innamorato di Marguerite, giudicando dai suoi atteggiamenti di innamorato infelice. Difatti Marguerite, da brava ragazza, dormiva nel magazzino e non era facile averla. Ma poco dopo, Dio sa come rimase quando si accorse che le occhiate ardenti erano proprio per Claire. Erano dei mesi che era innamorato in quel modo. Da una parte all'altra della strada, senza trovare mai il coraggio di dirglielo. E questo per una poco di buono che stava in rue Louis-le-Grande e che lui avrebbe potuto fermare tutte le sere, prima che lei se ne andasse sempre a braccetto d'uno nuovo. La stessa Claire non pareva che si fosse accorta della sua conquista. Quando Denise ebbe scoperto la verità, fu commossa dolorosamente. Ma dunque l'amore era una cosa brutta in quel modo. Bel lavoro quello lì. Un giovanotto aveva la felicità accanto e si guastava la vita adorando una donnaccia di quella sorta come il Santissimo Sacramento. Da quel giorno, tutte le volte che, dietro i vetri del vecchio Elbeuf, vide il profilo pallido e malaticcio di Geneviève, si sentì stringere il cuore. Tutte le sere Denise era assorti in questi pensieri mentre vedeva le ragazze andarsene con i loro amanti. Quelle che dormivano al paradiso delle signore, nelle camerette sotto il tetto, tornavano verso le undici, posto che non avessero avuto il permesso d'andare a teatro. Le altre sparivano, fino alla mattina dopo, e portavano poi al reparto quasi l'odore di fuori, nelle loro sottane. Un non so che fatto apposta per salire al capo. E la giovanetta doveva spesso rispondere con un sorriso al saluto d'amica che le rivolgeva Pauline, quando Bouget l'aspettava, come faceva tutte le sere alle otto e mezzo, dritto da una parte della fontana Gaillon. Poi, dopo essere uscita per ultima e aver fatto sola sola e quasi di nascosto due passi, era sempre la prima a tornare. Lavorava o andava a letto, con la testa piena di fantasticherie, presa dalla curiosità di quella vita di fuori che lei non conosceva. Mica che invidiasse le altre, era anzi contenta della sua solitudine, di quel vivere selvaggio in cui la sua timidezza si chiudeva come in fondo a un rifugio. Ma la sua immaginazione le prendeva la mano e cercava di indovinare evocando i piaceri di cui sentiva discorrere continuamente. I caffè, le trattorie, i teatri, le domeniche passate in barca o in campagna. E ne restava infastidita con un desiderio misto a stanchezza. Le pareva ad essere già sazia di quei divertimenti che non aveva provato mai. Per fortuna, in quella sua vita tutta lavoro, non c'era che poco tempo per le pericolose fantasticherie. Nel magazzino, con tredici ore di fatica, i commessi e le ragazze non pensavano davvero a fare all'amore tra di loro. Se la battaglia continua per il denaro non avesse fatto sì che la diversità del sesso non fosse più avvertita, per uccidere il desiderio sarebbe bastato quel continuo fare a spintoni che teneva occupata la testa e rompeva le membra. Si poteva appena ricordare qualche raro caso d'amore tra le ostilità, quell'essere compagni nel lavoro e il sapersi sempre accanto gli uni agli altri. Non erano più che delle ruote ingranate mosse dalla macchina, senza una personalità propria, costretti a non essere più che una forza aggiunta ad altre forze, in quell'ambiente volgare e possente da falanstero. Soltanto fuori tornavano a vivere la vita individuale con l'improvvisa fiammata delle passioni che si ridestavano. Denise vide, con tutto ciò, Albert Lhomme, il figlio della direttrice, fare scivolare un giorno un bigliettino in mano a una ragazza della biancheria, dopo essere passato su e giù più volte con un'aria indifferente. Si era allora in inverno, nella morta stagione che va da dicembre a febbraio, e Denise aveva finalmente un po' di riposo. Passava delle ore ritta con gli occhi perduti nella profondità del magazzino ad aspettare i clienti. Le ragazze dell'abbigliamento se le intendevano un po' di più con i commessi delle trine, senza che la forzata intimità andasse oltre certi scherzi scambiati a bassa voce. Alle trine c'era un aiuto che scherzava sempre e perseguitava Claire, con dichiarazioni e confidenze abominevoli, tanto per ridere un po', senza che cercasse nemmeno di vederla mai fuori. E così, da un banco all'altro, i giovanotti e le ragazze si scambiavano delle occhiatine e delle parole che solo loro capivano, qualche volta chiacchieravano con l'aria sopra pensiero e volgendosi un po' alle spalle per non farsi scoprire dal terribile bordoncle. Riguardo a Deloche, per un pezzo si contentò di sorridere guardando Denise, poi si fece più coraggio e quando si imbatteva in lei le diceva qualche parola da amico. Il giorno che lei vide il figlio di Madame Aurelie passare il bigliettino alla ragazza, Deloche stava appunto domandandole se le era piaciuta la colazione, tanto per dire qualcosa, e non riuscendo a trovare nulla di più cortese. Anche lui vide quel fogliettino bianco, guardò Denise e tutti e due arrossirono per quel movimento che cominciava sotto i loro occhi. Ma la ragazza, sotto quel soffio caldo che a poco a poco svegliava in lei la donna, non aveva ancora perduto la sua pace di bambina. Soltanto Ten, quando le capitava davanti, le faceva battere più veloce il cuore. Ma ai suoi occhi quello non era che un senso di riconoscenza. Credeva di essere commossa soltanto dalla sua cortesia. Egli non poteva condurre un cliente al reparto senza che Denise gli si mostrasse confusa. Parecchie volte, tornando da una cassa, le accadeva, senza accorgersene, di fare un giro più lungo per attraversare il reparto delle sete, tutta emozionata. Un giorno vi trovò Muray, che la guardò sorridendo. Non ci badava a lei, e le rivolgeva di tanto in tanto una parola per darle un consiglio sul suo vestito e scherzare un po' su quella paura selvaggia che aveva del ragazzo, e che non gli sarebbe mai riuscito di far diventare una donnina un tantino civetta, malgrado la sua scienza di uomo fortunato in amore. Arrivava perfino a ridere e a punzecchiarla senza volere confessare a se stesso che quella ragazzetta, coi capelli così curiosi, gli piaceva. A quel sorriso muto, Denise tremò come se avesse fatto del male. Ma dunque, lui sapeva perché lei attraversasse il reparto delle sete quando lei stessa non avrebbe potuto dire cosa la spingeva a fare quel giro. Houtem, peraltro, non sembrava accorgersi per nulla dell'occhiata piena di riconoscenza della fanciulla. Le ragazze del magazzino non erano il genere che gli andava, e ostentava di disprezzarle, vantandosi più che mai di amori singolari con le signore. Una baronessa capitata al suo banco era rimasta come fulminata. La moglie di un architetto gli era cascata tra le braccia un giorno che era andato a casa sua per uno sbaglio nel misurare la stoffa. Con queste bombe alla normanna nascondeva le donnacce che raccattava in realtà in fondo alle birrerie e ai caffè. Come tutti i commessi, aveva la mania di spendere. Tutta la settimana stava al banco, con l'avidità di un avaro, con questo solo desiderio, buttar via a manciate tutto il guadagno la domenica, sui prati delle corse, alla trattoria, ai balli pubblici. Mai un'economia, mai un soldo messo da parte. Tutto il denaro preso da una mano e gettato dall'altra, senza mai un pensiero per il giorno dopo. Favier non faceva quella vita. Otene e lui, tanto amici nel magazzino, arrivati alla porta si salutavano e non si parlavano più. Molti dei commessi, sempre insieme dentro, quando erano usciti di lì non si curavano di ciò che l'altro facesse, di come vivesse. Ma Otene aveva per amico Lineart. Tutte e due stavano nello stesso albergo, nell'albergo Smirne, il Rue Sant'Anne. Una casaccia nera che era piena di garzoni di negozio e di commessi viaggiatori. La mattina arrivavano insieme. Poi la sera, il primo che era libero, quando il suo reparto era chiuso, andava ad aspettare l'altro nel caffè San Rocco, in Rue San Rocco, un caffettuccio dove si trovavano di solito i commessi del paradiso delle signore. A berciare e sbevazzare, giocando a carte tra il fumo delle pipe. Spesso rimanevano lì fin verso luna, quando il padrone, stanco, li cacciava fuori. Ma da un mese, tre volte la settimana, passavano la serata in un caffè di Montmartre, dove si suonava e cantava, e si portavano dietro i compagni, acclamando a gran voce Mademoiselle Lohr. Una robusta cantante che era l'ultima conquista di Otene, con tanto picchiare di mazze e con grida tali che la poliziera ha già dovuto intervenire due volte. L'inverno passò così. Denise ebbe alla fine 300 franchi di stipendio fisso. Era tempo, gli scarponi non ne potevano più. L'ultimo mese aveva cercato perfino di andare fuori il meno possibile per non perderli per strada. «Ma Dio santo! Signorina, fate un rumore con le vostre scarpe», ripeteva spesso Madame Aurelì con aria stizzita. «Non ne posso più! Ma che avete ai piedi?» Quando Denise scese nel reparto con gli stivaletti di stoffa che aveva pagati 5 franchi, Margherita e Claire fecero a mezza voce le loro meraviglie, in modo da essere sentite. «Toh! L'ha ruffata che non ha più quelle ciabattacce!» disse l'una. «Chissà», rispose l'altra. «Quanto ha dovuto piangere! Erano un ricordo di famiglia le scarpe della mamma!» Si riattizzarono da tutte le parti le ire contro Denise. Il reparto si era finalmente accorto della sua amicizia con Pauline e ci vedeva una sfida in quell'affetto per una ragazza del reparto nemico. Non la finivano più, parlavano di tradimento, l'accusavano di far la spia ad ogni minima parola. La battaglia tra la biancheria e l'abbigliamento prese nuova violenza. Non era mai stata così accanita. Furono scambiate parole che parevano proiettili e una sera, dietro le scatole delle camicie, si sentì perfino uno schiaffo. Forse l'anticalite dipendeva da questo, che le ragazze della biancheria erano vestite di lana e quelle dell'abbigliamento di seta. Ma le prime parlavano delle vicine con certe smorfie da ragazze per bene che si scandalizzavano e i fatti davano loro un po' ragione. Perché era stato notato che la seta esercitava maligni influssi sui costumi delle ragazze addette all'abbigliamento. Claire era di continuo vilipesa a causa del branco dei suoi amanti. A Marguerite rinfacciavano il famoso bambino, a Madame Frédéric le passioncelle nascoste. E tutto questo per colpa di Denise. «Signorine, non tante villanie! Si frenino un po'!» diceva Madame Orelie con la sua aria da imperatrice, in mezzo alle ire scatenate del suo piccolo popolo. «Facciano vedere chi sono!» In fondo in fondo preferiva non occuparsene. Le ragazze, confessava lei un giorno a More che glielo domandava, «Non valgono più di qua che di là». Ma a un tratto si accese anche lei quando Bourdoncle le disse di aver trovato nel sotterraneo suo figlio sul punto di abbracciare una della biancheria. Quella ragazza a cui il giovane passava i bigliettini era un orrore. E lei disse chiaro e tondo che era stato un tranello preparato apposta per farci cascare al ber. Già, la cosa era stata messa su contro di lei. Cercavano di disonorarla, rovinando un ragazzo senza esperienza, perché si erano accorte che sul suo reparto non si poteva dire nulla, tanto lei lo reggeva fermamente e abilmente. Ma non fece tanto scalpore per imbrogliare le cose. Non si illudeva sul conto di suo figlio, sapendolo capace di quello ed altro. Ci fu un momento che l'affare si temette divenisse grave, trovandovisi immischiato mignò dei guanti. Era l'amico di Albert e correva la voce che facesse dei ribassi alle amanti inviategli da costui, delle ragazze senza cappello che stavano delle ore a frugare nelle scatole. E poi c'era la storia di certi guanti di Svezia dati alla ragazza della biancheria, di cui nessuno riuscì a capire nulla. Lo scandalo fu soffocato alla fine per riguardo alla direttrice dell'abbigliamento, che Mure stesso trattava con deferenza. Bordoncle, otto giorni dopo, si contentò di mandar via, con un pretesto qualsiasi, la ragazza colpevole d'essersi lasciata abbracciare. Chiudevano gli occhi sul terribile sozzume di fuori, ma non tolleravano nel magazzino nemmeno una ragazzata. Fu Denise che ne fece le spese. Per quanto sapesse come era andata, Madame Aurelie le serbò rancore. L'aveva vista una sera ridere con Pauline, e le era sembrata una sfida credendo che chiacchierassero degli amori di suo figlio. Nel reparto mostrò anche di più come avesse in fastidio la ragazza. Era un pezzo che pensava di portarsi una domenica tutte le ragazze in campagna vicino a Rambouillet, a Rigol, dove aveva comperato un po' di terra con i suoi primi centomila franchi messi da parte, e decise a un tratto di castigare Denise e metterla apertamente da parte. Fu la sola che non invitò. Fin da quindici giorni prima il reparto non fece che discorrere della scampagnata. Guardavano il tiepido cielo di maggio. Spartivano già le ore della giornata, si promettevano tutti i piaceri, il latte, gli asini, il pane nero, e poi tra donne soltanto. Questo sì che era divertente. Madame Aurelie passava così quasi tutti i suoi giorni di vacanza, andando a far passeggiate con delle altre donne. Tanto poco era abituata a stare in famiglia, che le poche sere che avrebbe potuto cenare col marito e il figlio, preferiva, sentendosi un pesce fuor d'acqua, piantarli tutto e andarsene in trattoria. L'homme scappava via dal canto suo, tutto contento di tornare alla sua vita di giovanotto, e Albert correva con un gran peso di meno sullo stomaco dalle sue belle. In questo modo, non più abituati alla vita di famiglia, dandosi noia l'un l'altro la domenica, non facevano che attraversare il loro appartamento come un albergo qualsiasi dove si va a dormire la notte. Per la scampagnata Rambouillet, Madame Aurelie bastò che affermasse che le convenienze impedivano ad Albert di andare anche lui, e che il papà anche lui avrebbe fatto bene a rifiutare. Tutti e due ne furono stracontenti. Ma le ragazze, a mano a mano che quel giorno di felicità si avvicinava, non la facevano più finita, e raccontavano i loro preparativi come se avessero dovuto fare un viaggio di sei mesi. Denise, pallida e silenziosa nel suo abbandono, doveva stargli a sentirle. «Vi fanno arrabbiare, non è vero?» Le chiese una mattina Pauline. «Io al vostro posto gliela darei io. Si divertono e mi divertirei anch'io. Venite con noi, domenica. Bouget mi porta a Junville». «No, grazie», rispose con la sua tranquilla ostinazione. «Ma perché? Avete paura che vi rapiscano!» E Pauline rideva con la sua aria bonacciona. Denise sorrise anche lei. Lo sapeva come andavano le cose. Tutte le ragazze avevano conosciuto un giovanotto in una di quelle passeggiate, sempre un amico venuto come per caso, e lei non ne voleva sapere. «Via, via!» riprese Pauline. «Vi do la mia parola che Bouget non porterà nessuno. Saremo in tre soli, non volete? Eh? Nessuno vi vuol dar marito per forza!» Denise stava ancora in forse, ma la voglia di andare le faceva salire un'ondata di sangue alle gote. Da quando le sue compagne parlavano in quel modo di piaceri campestri, si sentiva soffocare, presa dal bisogno del cielo aperto, immaginando erbe così alte che ci si potesse tuffare fino alle spalle, alberi giganti dei quali l'ombra le scendeva addosso come acqua fresca. La sua infanzia, passata nelle grasse praterie del contenten, si risvegliava col rimpianto del sole. «Ebbene, sì», disse alla fine. Fissarono tutto. Bouget sarebbe venuto alle otto a pigliarli in Place Gaillon. Di lì sarebbero andati in carrozza alla Garde de Vincennes. Denise, che coi suoi venticinque franchi di stipendio al mese poteva appena pensare ai ragazzi, non aveva che rinfrescato il suo vestitino di lana nera, guarnendolo di sbieco con una lanetta a quadrettini. E si era fatta da sé un cappello a cappottina, coperto di seta e ravvivato da un semplice nastro azzurro. Così semplice aveva l'aspetto giovanissimo, un'aria da ragazzina cresciuta troppo in fretta, d'una povertà pulita, un po' vergognosa e imbarazzata dalla lussureggiante abbondanza dei suoi capelli, che mettevano anche più in risalto la nudità del cappello. Pauline invece si pavoneggiava nel suo vestito primaverile di seta a righine violette e bianche. Si era messo un cappellino adatto, tutto penne, gioia al collo e alle mani, uno splendore da mercantessa infagottata. La domenica prendeva la rivincita di tutta la settimana, che era costretta nel reparto a vestirsi di lana, mentre Denise, che strascicava la sua uniforme di seta dal lunedì al sabato, tornava la domenica alla povera lana della sua miseria. «Ecco Bouget», disse Pauline, additando un pezzo di giovanotto accanto alla fontana. Presentò il suo amante, e Denise stette subito a suo agio, tanto le parve un buon uomo. Bouget, grande e grosso, forzuto come un toro, aveva un faccione fiammingo in cui due occhi che non dicevano nulla ridevano con una puerilità da bambino. Nato a Dunkerque, figlio minore di un droghiere, era venuto a Parigi quasi cacciato di casa dal padre e dal fratello, che lo credevano troppo stupido. Eppure nel suo magazzino al Beaumarchais si guadagnava 3500 franchi. Era stupido, ma espertissimo in materia di tele. Alle donne pareva gentile. «E la carrozza?», domandò Pauline. Dovettero andare fino sul viale. Al sole faceva già caldo, la bella mattinata di maggio splendeva sulle vie, e nemmeno una nuvola in cielo. Un'allegria attraversava l'aria azzurra e cristallina. Le labbra di Denise involontariamente si aprirono ad un sorriso. Respirava a pieni polmoni e le pareva che il petto si rifacesse ad un soffocamento di sei mesi. Finalmente non si sentiva più addosso quell'aria pesante e le pietre del paradiso delle signore. Un'intera giornata le stava davanti da passare tutta in aperta campagna. Ed era come una nuova salute, una gioia smisurata dove entravano anche nuove sensazioni da birichina. Ma nella carrozza si voltò da un'altra parte, imbarazzata, quando Pauline si chinò per dare un bel bacio sulle labbra dell'amante. «Toh!», disse con la testa sempre rivolta alla portiera. «Guardate l'amo e si è l'homme! Come cammina svelto!» «Ah, con sé il suo corno!», aggiunse Pauline che si era affacciata. «Lui sì che buffo! Non si direbbe che corre a un appuntamento!». Era proprio l'homme che con l'astuccio dello strumento sotto al braccio se ne andava svelto svelto lungo il teatro del ginnasio, con la testa alta, ridendo fra sé al pensiero del regalo che si riprometteva. Doveva certamente andare a passare la giornata da un suo amico, flauto di un teatrino, dove dei dilettanti la domenica suonavano e suonavano musica da camera dalla mattina alla sera. «Alle otto! Quella è una mania!», ripigliò Pauline. «E sapete? Madame Orelie e la sua cricca sono dovute partire stamattina alle 6.25 col treno di Rambouillet. Marito e moglie oggi non si incontrano di sicuro. Che famiglia!» Tutte e due si misero allora a parlare della scampagnata Rambouillet. La pioggia non la potevano augurare alle altre, perché altrimenti si sarebbero inzuppate anche loro. Ma se una nuvola avesse potuto rompersi laggiù senza che gli schizzi arrivassero a Jeanville sarebbe stata proprio una bella cosa. Poi vennerò a parlare di Claire, che non sapeva come fare a buttare via tutti i quattrini dei suoi amanti. Non si era comprate tre paia di stivaletti tanto per gettarli da parte il giorno dopo tutti tagliuzzati con le forbici per via dei suoi piedi tutti bozzi. Le ragazze del resto non avevano più giudizio dei commessi. Anche loro finivano tutto, fino all'ultimo soldo, e due o trecento franchi erano sciupati in un mese a forza di stracci e di ghiottonerie. «Ma se non ha che un braccio», disse a un tratto Bouget, «come fa a suonare il corno?» Non aveva levato gli occhi di dosso a l'homme. Allora Pauline, che qualche volta si divertiva con la sua ingenità, gli detta ad intendere che il cassiere appoggiava lo strumento contro il muro. Ed egli ci credette, e disse che era proprio una cosa ingegnosa. Quando poi, presa dal rimorso, gli spiegò come l'homme adattava al moncherino certe pinzette di cui si serviva come d'una mano, Bouget crollò il capo pieno di sospetto e dichiarò che lui certe cose non le beveva mica. «Ma sai che sei un po' troppo sciocco», disse Pauline, alla fine ridendo. «Non significa nulla. Ti voglio bene lo stesso». La carrozza continuava ad andare e arrivarono alla stazione di Vincennes, proprio in tempo per il treno. Pagava Bouget, ma Denise aveva fatto il patto che voleva anche lei pagare la sua parte. La sera avrebbero fatti i conti. Salirono in seconda classe, dai vagoni usciva un allegro mormorio. A Nogène, un corteo di nozze scese tra grandi risate. Finalmente arrivarono a Joanville e andarono subito nell'isolotto a ordinare la colazione e rimasero lungo la riva sotto gli alti pioppi che costeggiavano la marna. L'ombra era fredda. Un venticello spirava vividamente nel sole e faceva più limpida sull'altra riva la vista di una pianura tutta coltivata che si estendeva davanti. Denise andava dietro a Pauline e al suo amante, che camminavano con le braccia attorno alla vita l'uno dell'altro. Aveva colto una manciata di pratoline e guardava l'acqua che scorreva, sentendosi felice, ma col cuore un po' commosso, chinando la testa quando Bouget si curvava per baciare la sua amica. Le salirono agli occhi le lacrime, eppure non soffriva. Ma che aveva dunque? Perché si sentisse mancare il respiro in quel modo e perché mai quella aperta campagna dove aveva creduto pace e serenità la riempiva invece di un vago rimpianto di cui non avrebbe saputo dire la ragione. A colazione, poi, le risate rumorose la sbalordirono un po'. Pauline, che amava la periferia con la passione di un'attrice costretta a vivere al lume della ribalta nell'aria rinchiusa e guasta dalla folla, aveva voluto mangiare sotto un pergolato, per quanto il vento fosse un po' fresco. Si divertiva ai colpi del vento che facevano svolazzare la tovaglia, e le piaceva vedere il pergolato ancora tutto nudo, quei fili di ferro verniciati che facevano l'ombra geometrica sulla tavola. Del resto, più che ad altro, badava mangiare e bere, con una golosità affamata da ragazza malnutrita nel magazzino, che fuori fa un'indigestione dei piatti che le piacciono. Era quello il suo vizio. Quanti quattrini aveva, li spendeva in pasticcini, in frutta acerbe, inghiottonerie trangugiate velocemente nelle ore di libertà. Ma, vedendo che Denise ne aveva abbastanza delle uova, del fritto e del pollo, si trattenne e non osò ordinare le fragole, primizia ancora rara, per paura di far salire troppo il conto. «E ora? Che si fa?» domandò Bouget quando portarono il caffè. Le altre volte lui e Pauline tornavano a Parigi per cenare e finire la giornata teatro. Ma per accontentare Denise, decisero di rimanere a Joanvilla. Sarebbe stata una cosa nuova, si sarebbero immersi nella campagna fino a sopra la testa. Infatti non fecero che andare su e giù per i campi. Si fece la proposta di andare in barca, ma Bouget remava tanto male che scesero subito. Passeggiarono dunque, e la loro passeggiata li riconduceva sempre sulle rive della Marna. La vita del fiume li divertiva con tutte quelle barche e canotti che si incrociavano. Il sole si avviava al tramonto, ed essi tornavano a Joanvilla, quando due iole, venendo giù con la corrente e gareggiando in velocità, si lanciarono scambiandosi ingiurie fra le quali si udiva ripetere il grido di «Bettolieri!» «Toh!» disse Pauline. «È Monsieur Houten!» «Già», rispose Bouget, parandosi il sole con la mano. «Riconosco la lancia gialla. In quell'altra ci devono essere degli studenti!» E si mise a spiegare l'odio antico che faceva spesso azzuffare gli studenti con i commessi. Denise, sentendo il nome di Houten, si era di colpo fermata e seguiva la fragile Iole che volava come una freccia, con gli occhi fissi cercando tra i rematori il giovane. Ma non distingueva che le macchie bianche di due donne, una delle quali con un cappello rosso stava al timone. Le voci si dispersero nel gran frastuono del fiume. «Abbasso i bettolieri! Abbasso i merciai! Abbasso!» La sera tornarono alla trattoria dell'isolotto. Ma l'aria si era fatta pungente e bisognò che mangiassero in una delle due sale chiuse dove l'umidità dell'inverno dava alle tovaglie una freschezza di bucato. Fin dalle sei le tavole non bastavano più, perché tutti si affrettavano a cercare un po' di posto. I camerieri non facevano che portare seggiole e panche e mettere più fitte le posate, ammocchiando più il gente che potevano. In quel modo c'era da soffocare e fecero aprire le finestre. Fuori il giorno cadeva. Un crepuscolo verdastro scendeva giù dai pioppi tanto che il padrone, non preparato ad avere tutta quella gente al coperto, in mancanza di lumi, dovette far mettere alla svelta una candela su ogni tavola. Il rumore assordava, risate, chiamate, acciottolio di piatti. Le candele sotto il vento che veniva dalle finestre tremolavano e si struggevano e le farfalle notturne aleggiavano nell'aria riscaldata dall'odore dei cibi, ogni tanto attraversata da soffi gelati. Come si divertono, eh? Diceva Pauline, tutta assorta sul pesce marinato che lei asseriva essere squisito. Si chinò per aggiungere «L'avete visto voi, monsieur Albert laggiù?». Era davvero l'home in mezzo a tre donne, una vecchia col cappello giallo, che aveva tutta l'aria di una mezzana, e due giovanissime, bambinette di tredici o quattordici anni, senza fianchi, d'una sfacciataggine sbalorditiva. Lui, già ubriaco fradicio, sbatteva il bicchiere sulla tavola e diceva di voler prendere a schiaffi il cameriere se non portava dei liquori subito, subitissimo. «Questa sì che è una famiglia a modo», riprese Pauline. «La mamma a Rambouillet, il padre a Parigi e il figlio a Joanville, così sono sicuri di non pestarsi». Denise, che odiava il frastuono, pur sorrideva, contenta di sfuggire tra quel chiasso ai propri pensieri. Ma a un tratto, nella stanza accanto, ci fu un vocio che coprì ogni altro rumore. Urla e poi schiaffi, si sentirono spintoni, seggio le andate per terra, una vera battaglia con le grida di poco prima «Abbasso i merciai! Abbasso i bettolieri! Abbasso!» E quando il vocione dell'oste ebbe calmata la zuffa, apparve Uten. In camiciotto rosso, col berretto buttato all'indietro, teneva a braccetto la ragazza vestita di bianco, la timoniera, che per portare i colori della lancia si era ficcata un mazzo di papaveri sopra l'orecchio. Gli accolsero grida e applausi, e lui era raggiante e metteva il petto in fuori dondolandosi al modo dei marinai, tutto contento del livido blu che un bel pugno gli aveva fatto sulla gota perché così tutti lo guardavano. Veniva dietro loro l'equipaggio. Una tavola fu presa d'assalto. Il chiasso divenne terribile. «Pare», spiegò Bouget, dopo aver ascoltato i discorsi che si facevano intorno a loro, «pare che gli studenti abbiano riconosciuta quella donna, che è Cunuten, vecchia conoscenza del quartiere latino, che ora canta la sera in un caffè di Montmartre». E allora si sono presi a pugni per lei. Gli studenti, si sa, non le pagano mai le donne. «Sia quel che si vuole», disse Polino un po' agrodolce. «È bruttina davvero con quei capelli color carota? Dove Houten le vada a pescare, Dio lo sa, sono tutte più schifose una dell'altra». Denise s'era fatta pallida. Si sentiva addosso un gelo come se a goccia a goccia il sangue se ne fosse andato dal cuore. Già sulla riva, di fronte alla lancia che passava, aveva sentito un brivido. E ora non ne poteva dubitare. Quella ragazza era l'amante di Houten. Ma dunque lei amava quel giovanotto se soffriva così. Nel turbamento doloroso delle sue sensazioni non si rispondeva nemmeno. Con la gola serrata, le mani tremanti. Non mangiava più. «Ma che avete?» le domandò l'amica. «Nulla», balbettò lei. «Mi fa male il caldo». Ma la tavola di Houten era vicina. E non appena questi ebbe veduto Bouget, che conosceva da un pezzo, cominciò a parlargli ad alta voce per seguitare a tirarsi addosso l'attenzione della gente. «Dite un po', gli gridò. Al bon marché fate sempre i virtuosi come prima?» «Non tanto», rispose l'altro, rosso come il fuoco. «Via, via, si sa, non si accolgono che vergini. E c'è un confessionale sempre pronto perché i commessi, dopo averle guardate, si vadano a confessare. Un negozio dove si concludono dei matrimoni. Tante grazie!» Scoppiarono delle risate. Lienard, che era anche lui dell'equipaggio, aggiunse «A Louvre poi c'è una levatrice addetta al reparto dell'abbigliamento. Parola d'onore». Le risa raddoppiarono. Pauline, anche lei, scoppiava da ridere. Tanto quell'idea dell'allevatrice le pareva curiosa. Ma Bouget si offendeva degli scherzi sull'innocenza del suo negozio. A un tratto non si contenne più. «Avete un bel dire, voi altri del paradiso! Vi mandano via per una parola! E poi, con quel padrone che pare, tiri con gli uncini le sue clienti!» Houtet non gli dava più retta e faceva grandi elogi del magazzino sulla Place Clichy. Lui ci conosceva una ragazza tanto per bene, che le signore non avevano il coraggio di rivolgersi a lei per paura di umiliarla. Accostò quindi la seggiole e le posate e raccontò come quella settimana aveva messo insieme 115 franchi. Che settimana che era stata! Favier era rimasto sui 52 franchi. L'ordine segnato sulla lavagna era andato tutto gambe all'aria. E si vedeva, non è vero? Era pieno zeppo di quattrini. Prima di andare a letto, li voleva aver finiti fino all'ultimo centesimo. Sempre più ubriaco, si mise allora a dire di Rubinot, quel bel tipo dell'aiuto che voleva star sempre nelle sue e per la strada non si degnava di camminare accanto a uno dei suoi commessi. Sorvoliamo su Butemont, per esempio. Un capo doveva asserbare intera la sua autorità. Ma Rubinot, lui, l'educazione gliela potevano insegnare tutti. Zitto, zitto, disse Lineard. Chiacchierate un po' troppo. Il caldo cresceva sempre. Le candele si struggevano e colavano sulle tovaglie macchiate di vino. Dalle finestre aperte, quando il rumore della gente a tavola per un istante faceva una tregua, veniva una voce lontana, lunga, la voce del fiume e dei grandi pioppi che si addormentavano nella quiete notturna. Boget aveva chiesto il conto, vedendo che Denise continuava a sentirsi male, bianca come un cencio lavato, col mento convulso per le lacrime che tratteneva. Ma il cameriere non tornava più e dovettero tollerare altri pettegolezzi di uten. Ora badava a dire che lui valeva più di Lineard, perché Lineard si infischiava di tutto e non faceva che mangiarsi i quattrini di suo padre, e lui invece si mangiava i quattrini che guadagnava col suo lavoro, il frutto del suo sudore. Quando Dio volle, Boget pagò e le due donne gli andarono dietro. «Quella lì è di sicuro dell'ouvre», mormorò Pauline, nella prima stanza, guardando una ragazza sottile che si metteva addosso il mantello. «Ma se non la conosci, che ne sai tu?», rispose Bouget. «Già, è la maniera in cui è vestita. Reparto della levatrice, caro mio. E se ha capito, meglio per lei». Erano all'aperto. Denise si sentì riavere. Aveva creduto di morire in quel caldo soffocante, in mezzo a quelle grida, e seguitava a dar la colpa alla mancanza d'aria. Ora almeno si respirava. Dal cielo stellato pioveva una freschezza rivitalizzante. Mentre stavano per uscire dal giardino della trattoria, una voce timida sussurrò nel buio. «Buonasera, signorine». Era Deloche. Non l'avevano visto in fondo alla prima stanza dove mangiava solo solo, dopo esser venuto da Parigi a piedi tanto per svagarsi un po'. Nel riconoscere quella voce amica, Denise, che si sentiva mancare, cedette senza pensarci al bisogno di un appoggio. «Monsieur Deloche, tornate con noi!», gli disse. «Datemi un po' il braccio!». Pauline e Bouget camminavano avanti. Cascarono dalle nuvole. Non avrebbero mai detto che la cosa sarebbe andata a finire in quel modo, e con quel torsolo lì. C'era un'ora alla partenza del treno, e andarono fino in fondo all'isolotto lungo la riva sotto i grandi alberi, e ogni tanto si voltavano indietro e mormoravano «Dove sono? Ah, eccoli! è curiosa, proprio curiosa!». Denise e Deloche per un po' erano stati zitti. Il frassuono della trattoria si perdeva a poco a poco e nel fondo della notte prendeva una dolcezza musicale. S'adventravano sempre più nel freddo degli alberi per cacciarsi di dosso la febbre di quella fornace, i cui lumi, ad uno a uno, si spegnevano dietro le foglie. Davanti a loro si alzava quasi un muro di tenebre, una massa d'ombra nella quale i tronchi, i rami si confondevano, tanto fitta che non vedevano nemmeno più la traccia del sentiero, eppure seguitavano ad andare ad agio ad agio, senza paura. Poi i loro occhi si abituarono a quel buio, e videro a destra i tronchi di pioppi simili a cupe colonne che sopportavano le cupole dei loro rami, tra i quali luccicavano le stelle, e a sinistra il fiume, che di tanto in tanto splendeva nel buio come uno specchio di stagno. Il vento si era calmato, non si sentiva più che il fruscio dell'acqua. «Quanto sono contento di avervi trovata!» Balbettò alla fine delloche, che si decise a parlare per primo. «Se sapeste che piacere mi avete fatto a permettermi di passeggiare con voi!» E con l'aiuto delle tenebre, dopo molte parole impacciate, osò confessarle che la amava. Era un bel pezzo che glielo voleva scrivere. Ma forse lei non l'avrebbe saputo mai se non era quella bella serata che l'aiutava, quell'acqua che cantava e quegli alberi che li coprivano col mantello delle loro foglie. Denise non rispondeva. Seguitava a camminare al suo braccio come se si sentisse male. Deloche cercava di guardarle in viso, quando dì un leggero singhiozzo. «Dio mio! Ma voi piangete, signorina! Voi piangete! Sono stato forse io?» «No!» «No!» mormorò lei. Cercava di trattenere le lacrime, ma non ci riusciva. Anche a tavola aveva creduto che le si spezzasse il cuore. Ed ora, in quell'ombra, si lasciò andare. I singhiozzi la soffocavano al pensiero che se Uten si fosse trovato lì invece di Deloche e le avesse detto quelle parole, non avrebbe saputo resistergli. La confessione che finalmente ella faceva a se stessa la turbava stranamente. Ardeva di vergogna, come se sotto quegli alberi fosse caduta nelle braccia di quel bell'imbusto che godeva nel pavoneggiarsi tra quelle baldracche. «Ma io non vi volevo mica offendere!» ripetè Deloche, che non ne poteva più nemmeno lui. «No, sentite», disse lei con voce ancora tremante. «Non è che io sia arrabbiata con voi, ma ve ne supplico. Non mi parlate più in quel modo. Quel che volete voi è impossibile. Voi siete un giovane a modo ed io voglio essere vostra amica, ma nulla di più. Avete capito? Vostra amica!» Deloche tremava tutto. Fece qualche passo senza aprire bocca, poi balbettò. «Ma dunque non mi volete bene voi?» E accorgendosi che lei non gli rispondeva, per risparmiargli il dolore d'un no brutale, riprese con voce dolce e piena di pianto. «Me lo dovevo aspettare. Me l'aspettavo. Non ne ho mai azzeccata una, io. So che non sarò mai felice. In casa mia mi picchiavano. A Parigi me ne hanno fatte sempre di tutte. Vedete, quando uno non è capace di rubare le amanti degli altri, ed è tanto bestia da non riuscire a guadagnare quanto loro, dovrebbe andare subito in un cantuccio e crepare lì, solo solo. Non abbiate paura, non vi tormenterò più. Ma quanto poi a volervi bene, non me lo potete mica impedire. Vi amerò tacendo come un cane. Eccolo qui quel che mi tocca. Per me non c'è mai nulla in questo mondo». E anche lui scoppiò a piangere. Denise prese a confortarlo e, nella loro commozione, seppero che erano dello stesso paese. Lei di Valogne, lui di Briquebec, dieci chilometri più in là. Anche quella fu una ragione d'essere amici. Il padre faceva l'usciere. Poveri in canna, consumato dalla gelosia, lo picchiava dandogli del bastardo, arrabbiato per quel suo aspetto lungo e pallido e quei capelli di canapa, che, diceva, non erano roba di casa. Di discorso in discorso giunsero a parlare dei grandi prati con attorno siepi vive, dei sentieri che si perdono sotto gli olmi coperti dai rami, delle strade folte d'erba come i viali d'un parco. Intorno a loro la notte si faceva ancora meno folta. Distinguevano i giunchi della riva, il contorno delle ombre che spiccava nero per la luce delle stelle e con la pace che scendeva nei loro animi. Dimenticavano i dispiaceri, stretti insieme dalla comune sfortuna in un'amicizia da buoni compagni. «Dunque?» domandò vivamente Polina a Denise, tirandola da parte quando furono davanti alla stazione. La fanciulla, al sorriso e al tono d'affettuosa curiosità, capì. «Diventò rossa rossa». «Ma no! Se vi ho detto che non volevo! È del mio paese! Si discorreva di Valogne!» Polina e Bouget restarono senza saper che pensarne, sentendo false le loro supposizioni. Deloche se ne andò. Quando furono in Place de la Bastille, anche lui, come tutti i giovanotti alla pari, dormiva nel magazzino dove doveva essere alle undici. Per non tornare con lui, Denise, che si era fatta dare un permesso per il teatro, acconsentì ad accompagnare Polina Bouget, il quale, per essere più vicino alla sua bella, era venuto ad abitare in Roussaint-Roch. Presero una carrozza e Denise restò di sale quando per la strada seppe che la sua amica avrebbe passata la notte col giovanotto. Era una cosa da nulla. Bastava dare cinque franchi alla cabine. Tutte le ragazze se ne approfittavano. Bouget fece gli onori della sua stanza, mobiliata con certi vecchi mobili in stile impero, che gli aveva mandato suo padre. Quando Denise volle fare i conti, andò su tutte le furie. Poi finì con l'accettare i quindici franchi e sessanta che lei aveva posati sul cassettone. Ma volle allora offrirle un po' di tè e dovette andare fuori a comprare lo zucchero. Suonava la mezzanotte quando lo versò nelle tazze. «Bisogna che me ne vada», ripeteva Denise. E Polina rispondeva «Ora i teatri non si chiudono mica tanto presto». Denise, in quella stanza da giovanotto, si sentiva imbarazzata. Aveva visto la sua amica mettersi in sottana e sotto vita e stava a guardarla mentre preparava il letto, tirava giù la coperta, batteva sui guanciali con le braccia nude. E quell'apparecchiamento di una notte d'amore fatto sotto i suoi occhi la faceva vergognare, risvegliando nel suo cuore ferito il ricordo di Uten. Anche in quel momento si sarebbe sentita mancare la forza. Quelle giornate non erano davvero fatte per la salute. Finalmente, a mezzanotte e un quarto, se ne andò, ma andò via confusa, perché al suo innocente «Buonanotte». Pauline rispose storditamente «Grazie, la nottata sarà buona di certo». La porta privata che conduceva all'appartamento di Mouret e alle camere degli impiegati era il Rune of Saint-Agustin. La cabine tirava il cordone e poi dava un'occhiata per segnare quelle che tornavano. Una lampada era accesa al pian terreno. Denise, in quella luce incerta, si sentì inquieta, perché svoltando dall'angolo della strada aveva visto la porta che si richiudeva dietro l'ombra di un uomo. Doveva essere il padrone che tornava da una serata, e l'idea che lui fosse là, al buio, forse anche ad aspettarla. Le metteva addosso una paura strana, che la rimescolava tutta senza una ragione al mondo. Qualcuno si mosse al primo piano. Delle scarpe scricchiolarono. Allora perdette la testa e spinse una porta che dava sul magazzino, lasciata aperta per le ronde di sorveglianza. Si trovò nel reparto delle tere dipinte. «Dio mio, che fare?», mormorò lei, ad alta voce emozionata com'era. Pensò che all'ultimo piano c'era un'altra porta che dava sulle stanze, ma bisognava attraversare tutto il magazzino. Per quanto ci fosse dappertutto un gran buio, preferì far quella strada. Il gas era spento. Non c'erano che dei lumi a olio qua e là attaccati ai bracci delle lampade. E quelle luci sparse, simili a macchie gialle e senza raggi in tanta profondità delle tenebre, parevano i lanternini che stanno nelle miniere. Grandi ombre fluttuavano. I mucchi delle mercanzie prendevano maldistinti aspetti da far paura. Colone rovinate, pesti accovacciate, ladri in agguato. Il silenzio pesante e rotto da lontani respiri faceva apparire anche più grandi le tenebre. Non di meno riuscì a orientarsi. La biancheria a sinistra somigliava nel suo candore a una fila di case sotto un cielo estivo. E lei pensò allora di attraversare subito la grande sala. Ma inciampò in certi mucchi d'indiana e le parve più sicuro seguitare per la maglieria e le lane. Quando fu là, sentì russare e deppe paura. Era Joseph. Il garzone che dormiva dietro la roba da lutto. Fu svelta a buttarsi nella sala che la vetrata rischiarava ad una luce crepuscolare. Era più grande e piena del notturno terrore delle chiese, con quella immobilità degli scaffali e il profilo dei grandi metri che sembravano croci rovesciate. Cominciò addirittura a scappare. Alle mercerie, ai guanti, dovette scavalcare un altro garzone e si credette in salvo soltanto quando alla fine trovò la scala. Ma quando fu in cima, davanti al suo reparto, fu assalita da un tremito nel vedere una lanterna che camminava oscillando. Era una ronda. Due pompieri segnavano, a mano a mano che andavano avanti, il loro passaggio sui quadranti degli indicatori. Rimase un istante senza capirci nulla. E li vide andar lentamente dagli scialli alla mobiglia e poi alla biancheria fine, spaventata da quel loro giro, dallo stridere della chiave e dagli sportelli di latta che facevano un rumore sinistro. Quando furono vicini, si rifugiò in fondo alla sala delle trine. Ma un... chi va là? Improvviso. La fece subito scappare. E corse fino alla porta di comunicazione. Aveva riconosciuto la voce di Deloche, che la notte stava nel suo reparto in una branda che si preparava da sé tutte le sere. Egli ancora non dormiva, rivivendo ad occhi aperti le dolci ore della serata. «Come? Siete voi, signorina?» Disse Mure che Denise si trovò davanti, sulla scala, con un lumicino da tasca in mano. Balbettò qualche parola. Volle spiegare che era andata nel reparto a cercarvi della roba. Ma Mure non era arrabbiato e la guardava con un aspetto allo stesso tempo paterno e curioso. «Avete avuto un permesso per il teatro?» «Sì, signore». «Vi siete divertita?» «A che teatro siete stata?» «Sono andata in campagna». L'altro non poteva fare a meno di sorridere. Poi ridomandò, calcando sulla parola «Sola?» «No, con un'amica», rispose con le guance rosse come il fuoco, vergognandosi di quello che lui doveva supporre. Allora Mure non disse altro. Ma seguitò a guardarla, nel suo vestituccio nero, con quel cappellino guarnito con un nastro azzurro soltanto. Che proprio quella selvaggia dovesse finire col diventare bellina. Denise aveva ancora addosso il profumo raccolto nella scampagnata all'aria aperta, ed era graziosa coi suoi bei capelli che le carezzavano capricciosi la fronte. E lui che da sei mesi la trattava da bambina, e che qualche volta le dava dei consigli, cedendo alla propria esperienza e al maligno desiderio di vedere come una donna cresce e si perde a Parigi, non rideva ora più, provando uno strano sentimento di sorpresa e di timore con un po' di tenerezza. Doveva essere un amante che la faceva divenire così carina. E pensando ciò, gli parve che un uccello prediletto con cui lui giocava lo beccasse forte da fargli uscire il sangue.